Continua l'opera del Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani per il recupero del patrimonio artistico della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Quest'anno il club ha curato il restauro pittorico di sei dipinti parte del ciclo pittorico della chiesa. Le tele ritornate all'antico splendore sono state presentate al pubblico ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce. I Rotary del Club Torre del Greco ogni anno da un po' di anni stanno realizzando degli interventi di recupero di realtà artistiche della chiesa antichissima di Santa Maria di Costantinopoli. Dopo la statua linea proprio della titolare della chiesa e dopo lo scorso anno del restauro di un quadro della predica di Sant'Antonio ai pesci, stasera viene consegnato un ciclo completo delle opere di Santa Maria di Costantinopoli, due dedicate a San Pietro, due a Sant'Andrea e due alla Madonna. Erano i santi protettori del Piemonte dei Marinai, essi stessi pescatori Andrea e Pietro e poi la Madonna con la visitazione e l'annunciazione. Nel 1999 queste tele, che erano quasi degli stracci, ricevettero un primo restauro conservativo in Vaticano. Ora con la guida della sovrintendenza è stato fatto un restauro integrativo. In questo momento sono in fase di ultimazione i restauri del prospetto principale della chiesa di Santa Maria. Contiamo durante l'anno di fare interventi per metterla in sicurezza e spero che il prossimo anno, quando ci sarà la consegna ancora di altre opere recuperate, di poterlo fare proprio nell'antica chiesa di Santa Maria. Il Rotary Club ha finanziato il restauro conservativo dei sei pregevoli dipinti settecenteschi con l'intento di restituire alla città l'importanza storica che ha sempre avuto negli anni. Raffaele Ciavorino, presidente del Rotary Club Torre del Greco e Comune di Vesuviani. Cosa significa per voi il recupero e la restituzione di queste opere alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli? Il recupero di questa e anche di altre opere che abbiamo fatto in precedenza a noi serve soprattutto per arrivare alla meta che ci siamo prefissati insieme chiaramente a Don Giosuè e anche al nostro distretto 2101 Legione Campania della Rotary, di arrivare soprattutto a ridare a questo paese l'importanza storica che in passato ha sempre ottenuto e ha sempre avuto. Purtroppo negli ultimi tempi parecchi opere d'arte, ne abbiamo veramente tante e sono un po' abbandonate, un po' maltrattate. Un po' alla volta siamo riusciti anche quest'anno a partecipare economicamente e fisicamente anche con un lavoro personale a restaurare tutto il gruppo delle sette tele compresa quella dell'anno scorso di Sant'Antonio e stasera finalmente siamo arrivati al momento clou per la definizione di questo progetto. Io sono il rappresentante dell'Ambra Restauri che chiaramente è un gruppo di restauratori che si occupa ormai da 30 anni di restauro sia di opere mobili che di opere immobili. Per questo intervento è un intervento molto complesso perché le opere stanno in condizioni abbastanza precarie, soprattutto sotto il profilo delle mancanze perché in passato essendo stati abbandonati, avendo perso la tensione del telaio, hanno perso molto del colore originale. Ora quello che noi stiamo facendo unitamente alla soprintendenza è cercare di conciliare l'immagine devozionale anche dell'opera oltre che quella artistica con i dettami del restauro per cui le parti mancanti, quelle ricostruibili, le stiamo cercando sia pure con un ritocco differenziato con la selezione cromatica di restituire almeno nell'immagine. Ora per fare questo stiamo lavorando già da un anno circa e abbiamo ora pittoricamente riconsegnato le prime tre opere. Le altre tre anche per conciliarci con l'alta sorveglianza da parte della soprintendenza sono ancora in lavorazione ma entro fine anno saranno consegnate. Un evento importantissimo, bellissimi quadri, bellissimi recuperi di questi quadri del Settecento che raccontano la storia sostanzialmente ma anche la storia di questa chiesa che dobbiamo fare in modo che possa risorgere veramente. Io in qualche modo ho già dato anche le disposizioni per togliere un po' quel parcheggio di tutte quelle macchine davanti a quella chiesa. Secondo me quella piazza va restituita alla chiesa in primis ma va restituita anche alla gente. Questa, come ho avuto modo di dire tante volte, è una città incredibile, Torre del Greca, è una città di artisti, pittori, sculturi, insomma teniamo un tesoro veramente inestimabile che bisogna mettere in evidenza e che bisogna ridare alla città e che bisogna ridare anche possibilmente ad una classe di turisti che possono venire a visitare la nostra città.